Abbattimento delle liste d'attesa, riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera passando dalla nascita della radioterapia al Sant'Antonio Abate, impegni sui quali il direttore generale dell'ASP di Trapani, Fardinando Croce, non intende fare passi indietro. Il capo della sanità pubblica nel Trapanese ha dato merito al suo predecessore, Vincenzo Spera, di avere avviato il progetto operativo che era stato varato dalla regione siciliana per azzerare le liste d'attesa nel triennio 2020-2022. Dopo il mio insediamento ho iniziato a studiare per vedere come fare per abbattere il 2023 e nel frattempo in parallelo, ha spiegato Fardinando Croce, portare a regime il 2024. Adesso è un obiettivo fissato anche nei contratti che abbiamo sottoscritto, ci faranno una verifica fra un anno esatto, quindi dovremo essere bravi a cogliere le sfide. Un protocollo operativo già adottato ma che riceve via via correttivi in base alle indicazioni dei medici di medicina generale. Sul nuovo centro di radioterapia il manager dell'ASPA ha affermato di aver adottato un atto deliberativo che dopo tanti anni ha fissato una provvista finanziaria completa della somma che serve per poter procedere mettendo in gara i lavori. Più delicata e complessa invece la riorganizzazione della rete ospedaliera. Sono raccogliendo, ha detto Croce, le proposte della cittadinanza, degli stakeholders, delle istituzioni locali e degli operatori per presentarmi alla regione e formulare proposte operative che siano condivise e che siano frutto di una percezione territoriale forte. Nella sanità pubblica trapanese, come da altre parti, resta cronica comunque la mancanza di personale negli ospedali. Stiamo cercando di comprendere come fare ad avere più medici nei pronto soccorso e nell'anestesia. La sfida vera, ha specificato Ferdinando Croce, è quella di riportare a lavorare qui chi è andato fuori perché certamente la qualità della vita del nostro territorio non è seconda a nessuno altra parte del mondo e su questo faremo a breve anche delle nuove campagne. Ma fra le campagne che vede impegnate in prima linea l'ASP di Trapani c'è quella contro il consumo di droghe sintetiche in rapida diffusione purtroppo tra i giovani. La sinergia anche con le forze dell'ordine e con le altre istituzioni per me è una priorità e lo sto dimostrando con una campagna forte dallo slogan Non sei figo, sei solo fatto. Lo promuoveremo all'inizio dell'anno scolastico a concluso Croce soprattutto per spiegare ai più giovani che ci si può sballare anche con cose molto più belle e meno pericolose.